benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo quasi un mario sport mix ovviamente in compagnia di mio padre ciao allora purtroppo nella scorsa abbiamo perso pallacanestro è molto difficile perché io speravo rivolgendo sul ferro e puntalare in una schiacciata e dobbiamo rifarle per forza ma sempre pallacanestro si porca miseria ecco perché è molto difficile io la prenderò e te la passerò col cemento una signora ma vai schiacciare ma perché così io te lo dico tu devi scegliere beach se sai che è una mezza cartuccia non devo dire mi piace non devi andare per convenienza perché ti piace di diventare per perché fosse e poi ti lamenti piangi 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 perché fatti ma perché è andato di la che ho detto di là perché non è passata la palla scusa io stavo libero perché io attenzione perché vuole fare tutto da solo no perché io la potevo fare un tiro da tre ma queste rifacenti di beach ecco tu devi farlo senti metti dietro alla gente scusa no e io stavo per te erano un po' di gente io mi sono messo davanti ma io mi sono messo davanti ma io mi sono pochino guardò se mi mettete arrabbiata perché siamo le disso avete bisogno dopo quell'altro se no ma se non si abbassi la palla subito a me e stai sempre a peggio ma c'è va bene ma che giochiamo a fa tanto zirò l'uguale eccomi vedi che a te è veloce perché tu sbagli a prendere quella voglio prendere cosa la devi lasciare aperti pitch e ma ormai lo posso cambiare è una vera cartuccia perché ti piace ma è lenta è un morbidone e che mi fai è come un e due vai no ti sono passati vai torta male in tanto e si perché ho voluto fare un tuffo spettacolare scusate ora vediamo come fare schiacci dal canestro e salta è una cosa che io faccio ma so che ci può mettere meno tempo ma comunque ci mette in quale tempo cercare vedi che pure quando salta fa la giravolta rimane ma tu vuole farci la volta mi dà la botta a me e che tu della battaglia è pure tu è quello mora e va perché io non lo possiamo bloccare il rosino ma questa cosa mi dà fastidissimo ma perché tu non passi la palla io sto davanti a te ti ho passata la palla no l'ho passata cavolo la pagina la pagina la pagina è uno ma lo vedi che io lo faccio ma lo voglio non vincere vabbè tanto il gioco ci facciamo aperto c'è un'altra cosa va ci sto io qua eh che modi rastagoso ma può ma vuole un oggetto dovrebbe far subito ok boom boom e mi sta palla del cavolo piccio vai oh oh si passa la palla morite morite male ma che ti vuole morire oh te eh ma passa la palla eh se c'è l'oggetto io uso l'oggetto ma che oggetto vuoi passare non lo vinciassi a chi male con oggetto senza oggetto in realtà l'oggetto ti è scaduto ti è in realtà l'oggetto serve apposta perché se tu devi da lontano quello c'entra per forza c'entra infatti l'ho visto invece quel fumo non l'ho mai cercato perché non l'ho mai cercato il canestro non l'ho mai sentito il canestro poi se c'era il fumo perché infatti il fumo dovrebbe entrare ma non entra perché il gioco è blocco eh chi è il fumo? è il fumo vai ah sg eccetera eccetera e ti amo e sbregati è babbalucco? eh sono morta mi spiace nooo e allora vedi che lo fa per forza e a noi nooo passa la palla passa la palla passa la palla passa la palla lo pare alla ma perché l'hai passata a quello proprio? cioè ma non puoi dire che non l'hai passata a quello perché ce l'hai passata vai no così mi rendo più forte oh perché? stavamo dietro se tu lo tiri loro la prendono la palla oh non mi fatevi ligarmi davanti al pubblico mamma questa questa è che è pulmina eh e abbiamo dato a lei è stato già zitta uguale tanto io stavo davanti mi sto uccidendo le dita eh scusate io stavo davanti pure eh ha segnato eccomi allora no adesso questo fu nooo è il titolo piccolo vai teee tiè e ma tanto con un minuto non ce la faremo mai e lo so però intanto se tu non passi la palla cavolo loro la rubano sempre no vai e ma sta davanti quello? te lo posso darti? se ci sta davanti eh ho la rubata oh 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 ho la presa uguale cioè stavo davanti a lui e l'ha presa ci ho capito che il gioco dobbiamo prendere la persona veloce il gioco dici ok l'ostacola oh il gioco ti ostacola perché è questo che appunto che vuole fare il gioco ma in realtà non cioè non è fattibile perché il gioco non ti può fare una cosa del genere che è pasta ma muori e ce la fa uguale e poi lo difendo e poi c'è dei testimoni tira subito tira subito no no è moscissima c'è una mosciglia addosso che non finisce mai che lo cambio non lo sfondo vai togliti dalla e mezzo tu li devi fermare quando partano ma io se nemmeno li vedo ma se io nemmeno li vedo nemmeno li vedo nemmeno nemmeno li vedi ma dai no ma perché è loro quando la blocca non la passa che a me non so non lo so vado c'è loro massa ma ho io ho tirato il canestro parole infatti l'ho provato anche le due dammi tempo però guarda non potete quando voglio uccidere sto tizio guarda non potete capire quando voglio mannaggia come ha tirato a 64 kg e quando tiriamo da 64 chilometri noi da due chilometri no è impossibile giocare se quello vuole non chiedermi più di giocare a pallacanestro non ci gioco più non è giusto c'è una cosa non va bene non ci gioco più non ci gioco più con te ma non è colpa mia non è giusto usciamo da questo torneo di beep e visto che andiamo a farci un bug tranquillo facciamo bugger music io non ho mai fatto un bug che cos'è l'abbiamo già fatto ma quale che è bugger music perché non abbiamo molti personaggi ma cos'è vedi che la potenza la velocità è uguale a pitch anzi è più veloce pitch di statistica pitch è daisy mi metto daisy la tecnica è piena la velocità è meno di pitch la potenza è di più però scusa prima lei chi era prima era daisy l'abbè evidentemente quello è tutto tutto pieno sicuro perché altrimenti non può essere ad esempio magari sono tutto uguale diciamo bugger music vatti chi è il personaggio non lo facciamo bugger music tiè noi non lo siamo contro nessuno ah non lo siamo perché io non lo so facciamo questo difficile vai li abbiamo già fatti sicuro lo devo riconoscere fammi vedere bugger music che cavolo è che cavolo è dobbiamo diciamo fare le cose belle durante la morte siamo anche nella tua ambientazione che dobbiamo prendere la tua palla che sarebbe quella rossa prendi solo quelle rosse solo quelle rosse con quel nome e allora come giochi a coso ah se lo hai ok prendiamo anche le tue va che tu non ne stai prendendo con la ma è moscio come lo e tu l'hai preso è colpa mia ora sto prendendo tutte quelle rosseone vai senti boom boom facciamo che quel non l'abbiamo nemmeno esistito ragazzi quel no quel gioco quel sono due rosse attenzione eh boom 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 vedi vedi che bello oh monetine monetine prendi la tua palla da monetine ah è piccolissimo l'ho presa piccolo vai eeeh eccola eeeh sono piccolo di nuovo vabbè dove sono andato ok eeeh wow no ha perso la mia palla magello che magello ah no sono caduta io credo che riusciremo a farlo e non lo dobbiamo fare oh ok guarda cosa sta facendo da lì uh uh buca ma grandi uh oh che meredicolo eeeh ok sto venendo io quello che non riuscivi che cosa sta succedendo ahahah perchè non siamo riusciti a fare 2800 più 4730 che schifo che peccato ok comunque fa un record eh fa un record di schifezza credo ahahah comunque se ci avete visto magari anche un po' arrabbiati è perchè abbiamo registrato quel video cioè questo video subito dopo l'altro perchè se no perdevamo tutti i salvatatti ma nel prossimo episodio non dico che dovremmo rifare a riprovare a fare i pallacadestro ma proveremo a rifarlo magari da capo ah in modo se magari proveremo a essere più fortunati magari non lo so a pallavolo alla fine sarebbe una cosa molto molto più comoda e molto più bella speriamo che appunto pallacadestro non ci riesca se no muoriamo e comunque ovviamente se volete un altro episodio raggiungiamo i 30 mi piace allora io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti